Buonasera, benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, dopo il telegiornale c'è Primo Cittadino, come già annunciato, in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri, che già vedete inquadrato qui nei nostri studi, sulla nostra schievania. Buonasera sindaco, ben ritrovato. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, la vedo abbronzata, il che significa che comunque un po' di tempo anche per andare al mare. Devo dire tutta la verità, sono andato soltanto due ore al mare, questa è una abbronzatura da corsa, l'ho presa nelle strade intorno a casa. Ha ripreso a correre. Ho ripreso a correre in questi giorni per rimettermi un po' in sesto, come si dice. Mi pare anche che faccia un bel po' di chilometri. Questa mattina ne ho corsi 11. 11 chilometri, non è proprio da dilettante allo sbaraglio. Cerchiamo di mantenerci in forma. Il sindaco è un impegno stressante, quindi l'attività fisica aiuta anche a rigenerarsi un pochettino. Ok, allora andiamo subito al... Dunque, vi diciamo, come ormai ben sapete, quali sono i numeri e le coordinate per mettersi in contatto con il sindaco di Fano Massimo Seri. È a disposizione per una cinquantina di minuti qui in diretta per rispondere alle vostre richieste, alle vostre domande. Il numero è 0721 86 14 33, se volete parlarci in diretta. E come sempre le telefonate hanno la precedenza sui messaggi, sms oppure attraverso whatsapp. 338 dunque 49 68 250 invece per chi volesse scriverci. Però mi raccomando, fate messaggi brevi, sintetici e soprattutto chiari, senza stare a farlo troppo lungo, perché poi se no in diretta non riusciamo a sintetizzarli. Allora, vi dico anche che purtroppo, per chi ci segue in diretta, c'è una notizia che stiamo seguendo, di cui vi daremo conto tra qualche minuto, spero. C'è una notizia, un incendio, un incendio importante sul Monte Nerone. C'è anche un'immagine davvero eloquente, davvero inquietante, che spero di riuscirvi a farvi vedere comunque nel corso della puntata. Un incendio che sta interessando il rifugio Corsini di Monte Nerone, un rifugio dove in tanti siamo stati, sia d'inverno che d'estate. Purtroppo c'è un incendio che ha coinvolto il rifugio. C'è un'immagine, tra l'altro credo ci sia anche una webcam attiva, quindi si può vedere tranquillamente. Cercheremo adesso, se riusciamo a andarvela in onda. Allora, Sindaco, intanto cominciamo con quello di cui abbiamo parlato nel corso del telegiornale. Lei lo ha visto stando qui proprio nei nostri studi. Oggi ce l'hanno un po' con lei, soprattutto sul fronte della sanità, sul fronte della sicurezza e anche del decoro urbano in particolare. Allora, io direi di cominciare proprio da queste tre clip che abbiamo raccolto nel corso del pomeriggio. Direi di mandare in onda questa domanda che vuole farle Mariana Magrini di Progetto Fano. Allora, il Sindaco, il 16 febbraio, durante la nostra interrogazione, ci ha risposto che stava già progettando una riqualificazione per l'intera città, che avrebbe poi condiviso con tutti noi e sarebbe stata pronta in un paio di mesi. Quindi ci chiediamo questo progetto di riqualificazione da condividere. Dov'è e cosa prevede? Può rispondere? Sì. Il progetto è in cantiere perché stiamo lavorando. Per la prima volta Fano si è dotato di uno strumento che si chiama piano strategico, che vuole guardare lontano e non soltanto nell'immediato. All'interno di questo ci sta anche la riqualificazione e la progettazione della città, del centro storico. Penso che si riferisse in questo caso al centro storico. Quindi a breve verrà presentato perché stanno già lavorando sulle relazioni, ma in ogni caso potrei rispondere che abbiamo già iniziato a riqualificare la città. Tutta una serie di interventi sono già stati inaugurati in parte, in altri sono in corso. Così per citarne alcuno mi viene in mente via Garibaldi, mi viene in mente l'illuminazione che sta cambiando il vorto della città. Io ricevo tante segnalazioni positive perché se noi facciamo una passeggiata dalla stazione verso il centro, vediamo le mure illuminate con l'associazione di tutti i pali, come Viale Battisti che ha cambiato completamente anche l'immagine di quella parte della città. Annuncio anche che a seguire ci sarà anche un intervento sul manto stradale per la parte pedonale. Non l'abbiamo fatto prima perché dovevamo intervenire con l'installazione dei pali, quindi avremmo buttato via semplicemente soldi. Quindi anche quell'aspetto, poiché scherzosamente alcuni mi hanno detto bella l'illuminazione ma adesso si vede meglio anche la parte sotto che non è stata curata, giustamente, ma interverremo anche su questo. Domani c'è l'inaugurazione della Rocca Malatestiana, quindi ci sono tutta una serie di interventi, ma abbiamo già dato in carico anche ai nostri uffici di fare progetti di qualificazione anche per alcune piazze e giardini della città. Ok, allora naturalmente ci sono tante richieste da parte dei cittadini, stanno arrivando veramente una valanga di messaggi che speriamo di riuscire a sottoporle, perché comunque sono davvero tanti. Mi pare però di poter dire sul fronte del turismo che ancora ci sono delle cose da sistemare. qualcuno accusava un po' l'amministrazione di poca promozione, per esempio sul carnevale, il carnevale è quello che dovrebbe essere il carnevale estivo. Ecco, è soddisfatto di come stanno andando le cose quest'anno? Beh, i segnali, poi i bilanci si fanno sempre a fine estate, i segnali sono segnali positivi che noi abbiamo, c'è un incremento di turisti stranieri, in modo particolare tedeschi, olandesi, che sono i principali, ma c'è una tendenza in crescita, favoriti, dobbiamo dire la verità, anche da un contesto internazionale che fa portare l'Italia al centro dell'attenzione. Le attività sono tante, poi è chiaro si può sempre far meglio, ma c'è una necessità, e questo lo riconosco, su quale dobbiamo rafforzare il nostro impegno. In questi anni abbiamo, ogni anno, cercato di concentrarci un po' su tutto, ma abbiamo fatto delle scelte dove magari in un determinato anno rispetto ad un altro abbiamo destinato più risorse. Adesso dal settembre, anche in previsione del prossimo anno, lavoreremo molto di più su anche il discorso del brand, dell'immagine, anche alla luce delle giornate interessanti e partecipate che abbiamo fatto proprio sul tema del rilancio turistico e dell'immagine del brand della città. Ripetendo sempre al tema di turismo, lei ha letto quell'articolo sul resto del Carlino di quell'uomo di Parma, di quel turista che viene qua da diversi anni, che ha un po' criticato alberghi e quant'altro. Lei come l'ha letta questa? Fano, come tanti altri comuni, anche come i vicini Pesaro e Senigaglia, perché poi le caratteristiche sono simili. C'è una necessità di migliorarsi nelle strutture ricettive. Poi noi abbiamo anche una tendenza a quella di evidenziare la nota stonata, perché poi anche il turista intervistato, in realtà ricontattato da noi, dice sì, effettivamente ho avuto un problema in un hotel, ma io sono poi andato in un altro dove si è trovato bene, dove ha invitato anche un'altra famiglia ed era soddisfatto. Quindi tornerà a Fano. Tornerà a Fano. Ma guardi, i turisti che vengono, anche oggi ho tutto il modo di parlare con delle persone che vengono da fuori, rimangono contente di Fano. Poi noi, chiaro, giustamente, chi vive la città è sempre il percritico, perché giustamente vuole sempre migliorarsi e guardare come fare le cose sempre al meglio. Però Fano piace e l'umore, il gradimento, è un buon gradimento. Poi, è chiaro, ci sono alcune necessità, alcuni settori che vanno migliorati. E di criticità ce ne sono tante, a vedere qua le segnalazioni. Ecco, per esempio, quello di Parma criticava perché aveva trovato il lavoro in corso al museo. Per carità, io mi preoccupo più quando magari sono chiusi perché non si fanno lavori, non si fanno interventi. Invece leggevo con interesse quei servizi, sempre sui quotidiani locali, che citavano come molti turisti, di quelli abituati dell'Umbria, in queste settimane abbiamo deciso invece di spostarsi verso il sud delle Marche a causa dei tanti lavori che ci sono per esempio sull'E78, gallerie con una sola corsia, lunghe code, incolonnamenti che scoraggiano i turisti a venire a fare. Ma quello è un problema serio perché se... Possibile che non si può fare in un altro periodo, cioè intervenire per... Intanto è chiaro che una persona come quelli che vengono dall'Umbria per fare il fine settimana se devono perdere 5 ore per raggiungere, per fare 100 chilometri diventa un problema. Un conto, se uno va per 10 giorni, 15 giorni, può starci anche un'attesa lunga, a un incolonnamento. Io mi sono mosso con ANAS, perché quella è competenza di ANAS. Fra l'altro all'inizio, a fine giugno, c'era stata anche una coincidenza di lavori, ma che non potevano essere procrastinati per ragioni di sicurezza. Poi ci sono alcune situazioni che non sono programmabili e sulle quali si deve intervenire quando c'è la necessità. e ho chiesto e in parte anche ascoltato di ridurre questi interventi in modo particolare sui fine settimana proprio per rallentare, diminuire queste file che tendono a scoraggiare i turisti che vengono. Perché una volta persi poi il rischio è che è difficile rirecuperare. Quando un territorio fidelizza delle persone e poi si perdono, recuperarle diventa più difficile. Allora abbiamo Anna D'Afano, intanto chiedo per favore alla regia di accendere il touchscreen così vediamo se riusciamo a far vedere questa benedetta fotografia. Allora Anna, buonasera. Anna? Buonasera. Dica. Buonasera. Allora, volevo fare una domanda intanto al sindaco. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere il rifacimento della via della valle perché ci sono delle buche che sono pericolosissime. Io ci sono caduti. e già ci sono caduti persone che abitano in questo condominio. Sì. Poi volevo chiedere perché a Fano si paga cioè l'handicappato deve pagare nelle strisce blu dove invece se a Pesero che in Ancona altre parti non pagano. Non sono una parte in causa però lo chiedo. va bene. Grazie Anna. Un'altra cosa volevo chiedere siccome abitiamo in via della valle abbiamo il garage non vedo perché io devo pagare l'ingresso al centro storico per entrare nel mio garage quanto pago l'Imu e pago il condominio. Cioè è una cosa per me che non ci sta almeno la prima macchina paga una cifra la seconda macchina paga addirittura il doppio non mi sembra proprio giusto quando dalle altre parti non si paga. poi faccio un'osservazione tu ti stai battendo noi ci conosciamo bene Massimo sì io sono Baldini sì sì ho riconosciuto la voce ti stai battendo per lo Sciale del Mar non sono sempre in causa io come parte perché non ho nessuna attività però come è libero di suonare fino alle 3 del mattino lo Sciale del Mar non vedo perché non deve suonare Atos la perda e tutti i via di seguito cioè o è per tutti o è per nessuno allungare l'orario grazie questo non è un problema che la riguarda immagino sia più un discorso generale allora via della Valle mi pare ho capito bene via della Valle adesso segnalo sì una traversa di via Nolfi segnalo subito all'ufficio se ci sono delle buche in modo che possono andare a ricoprirle o evitare che qualcuno possa cadere strisce chi ha il permesso l'autorizzazione di parcheggiare come disabile paga nelle strisce nei parcheggi negli stalli blu a Fano mentre in altre città no ha ragione è una situazione che io ho trovato perché non è che si è cambiata in questo periodo ho già detto in consiglio comunale ad un consigliere che mi ha posto un'interrogazione che avremmo posto rimedio però con una precisazione quello è un diritto sacrosanto a chi ha delle difficoltà deambulatorie che ha dei disagi e quindi si dà un'agevolazione per parcheggiare però bisogna essere severi a chi sfrutta e utilizza quel tagliando senza averne bisogno troppo spesso perché c'è qualcuno in famiglia viene utilizzato per altre cose non per una necessità io ho mai visto scendere disabili in una solo gente che camminava tranquillamente c'è una tendenza nella città di Fano ad un numero ad una percentuale più alta di altre città e quindi anche questo va verificato però è un diritto sacrosanto su cui io non ho dubbi e quindi sarà nostra intenzione perché questa cosa sono gestite forse bisognerebbe controllarle un po' di più bisogna controllarle basterebbe fare una settimana di tour de force e la settimana dopo verrà che tutto cambia allora andiamo ZTL questa è una cosa importante allora dice perché per entrare in centro storico si paga in altre città non si paga allora qui non è che si paga per entrare nel centro storico quando ci sono vie ZTL e per quindi significa zone a traffico limitato chi ha l'autorizzazione a centrale perché deve pagare una quota ma questo avviene in tutte le città italiane altrimenti per entrare nel centro storico è gratuito solo si paga una quota solo nelle zone a traffico limitato ed è limitato a quelli che hanno un'autorizzazione e pagano perché diventa anche non dico un privilegio perché uno va a casa però non è una cosa esclusiva di Fano ma avviene poi in tutte le città allora siccome siamo in diretta allora abbiamo questo aggiornamento con cui abbiamo aperto Primo Cittadino una notizia di cronaca ecco la fotografia che vi dicevo questo è il rifugio Corsini siamo a Montenerone più o meno a 1200 metri di altitudine allora c'è Lino Balestre che sta seguendo per noi questo questo fatto questa notizia c'è dunque la notizia il primo aggiornamento è che ci sono delle squadre dei vigili del fuoco che sono partite due da Cagli e un'autobotte partita da Pesaro le fiamme per ora sono soltanto sulla struttura in legno del rifugio Corsini queste sono le immagini appunto di cui vi parlavo all'inizio della nostra diretta restate con noi e vi daremo qualche aggiornamento in più allora adesso invece andiamo sono tantissimi davvero stanno arrivando una marea di messaggi cerchiamo di essere rapidi cerchiamo di essere veloci allora per quanto riguarda il bando per sponsorizzare il verde a Fano è stato lanciato qualche settimana fa quando vedremo le prime rotatorie oppure le fioriere sponsorizzate? sì il primo bando è uscito e lì è stata una manifestazione di interesse per una rotatoria della nuova interquartiera anche perché le rotatorie di Fano insomma lasciano un po' desiderare esatto ma è vero ed è uno dei punti io avevo annunciato che il 2017 era l'anno in cui c'era un'attenzione e si verso il verde verso il decoro verso le rotatorie e stiamo andando in quella direzione poi le cose non si realizzano in poche settimane occorre tempo c'è un percorso amministrativo quel bando è uscito è stata una manifestazione di interesse di un privato con la quale penso stiano autorizzando e ce ne sono altre che sono interessate ma non lo hanno ancora si sono interessate verbalmente poi come tutte le cose c'è un inizio una timidezza e poi come la valanga tendono ad aumentare e dovrà uscire a questo punto attendiamo agosto un bando per alcune rotatorie per alcune parti importanti della città come l'ingresso ad esempio della superstrada verso Sant'Orso noi faremo una gara per abbellire quelle parti perché io voglio che gli ingressi della città come avviene in tante città specialmente se turistiche siano coglienti siano un bel biglietto da visita la passeggiata dell'Isippo ha suscitato interesse polemiche è una bella passeggiata come consuetudine insomma qualcuno piace sono andato oggi a vederla le terrazze altri invece criticano il fatto che anche stando seduti si vedono queste sbarre che impediscono una visuale ecco non so se si poteva forse studiare un po' meglio però ecco fatto è che se uno volesse vedere queste queste il mare stando seduti in realtà non lo vede a schermo pieno mi verrebbe da dire però a occhio pieno ma con queste sbarre davanti questo è vero poi sono gli architetti che progettano dopo c'è il design sulla quale quello effettivamente si è seduto l'architetto l'ha visto io non lo so io mi sono seduto effettivamente è così però devo dire la passeggiata è molto apprezzata fra l'altro voglio dire anche questo perché un cittadino me l'ha segnalato non ci sono cestini infatti la signora dice non ci sono i cestini per l'immondizia ma insomma ho già detto ad Aset di installarne alcuni dovranno installarli in punti accessibili per la raccolta ok allora grazie ecco visto che ci siamo lì parliamo del porto mi piace anche dare questa informazione con i murales con le terrazze si è dato un volto e si è resa la passeggiata più gradevole ma c'è un altro aspetto interessante importante che ha ricadute economiche anche di lavoro perché nella parte restante del porto si prevedono nel breve medio periodo investimenti importanti che riporteranno anche aziende importanti nella nostra città e questo significa sviluppo economico significa anche nuovi posti di lavoro allora cominciamo anche un po' di strade un po' di asfaltature dunque buonasera sindaco volevo sapere se nel nuovo programma di asfaltature c'è in programma la strada che da tre punti va al canile comunale basta con questi rattoppi schifosi dice questo nostro telespettatore e adesso però telegrafico sindaco perché ne ho veramente una marea di adesso quella via non lo so perché non ricordo il nome io ho l'elenco delle vie che verranno asfaltate a breve è chiaro che noi abbiamo 400 km di strada ne abbiamo già asfaltate circa 70 km un lavoro straordinario ed è sicuramente rimangono alcune strade con delle criticità non asfaltate speravo che reggesse un po' di più quest'asfalto in alcuni punti in realtà siamo già appunto a capo dove il lavoro è soddisfatto di questo anche perché dove il lavoro non è stato fatto bene si fa rifare ecco questo è un altro elemento che mi piace sottolineare per la prima volta in questa città non lo avete fatto bene in realtà qualcuno criticava perché si rifacevano i lavori beh si rifacevano perché abbiamo fatto il nostro dovere siamo intervenuti dove chi ha vinto la gara e doveva eseguire l'apparto i lavori non li ha eseguiti secondo capitolato come dovevano essere Ponte Sasso Ponte Sasso frazione di Fano si sentono un po' abbandonati qualcuno beh questo guarda è una caratteristica nostra in qualsiasi quartiere dove ne andiamo si sentono abbandonati c'è sempre qualcuno che è trattato meglio la parte sud di Fano diciamo è quella che è stata negli anni più penalizzata però mi piace sottolineare che da quando ci siamo insediati abbiamo programmato una serie di interventi in parte che stiamo eseguendo e in parte che verranno realizzati da qui al nuovo al prossimo anno destinati per quell'area e sono risorse significative e un'attenzione che onestamente in passato non sempre si è registrato per cui mi piace sottolineare questo aspetto poi ripeto quando le problematiche sono molte ovviamente si notano tutte quelle che rimangono irrisolte rispetto a quelle realizzate Sarcastica questa segnalazione che fa riferimento evidentemente anche a quello che ho detto prima che non ho mai visto gente disabile scendere su un posto per disabili in realtà fa notare questa persona dice esistono persone con disabilità che però possono camminare per tratti brevi e in piano e quindi magari possono scendere dall'auto fare un po' e poi dopo magari devono forse tagliarsi una gamba come dire devono per forza essere su una carrozzina quello che non va bene è quando chi non ha questi problemi utilizza la macchina con il tagliando allora i due cavalcavia che cadono dove cadono i calcinacci quando l'intervento in via Gentile da Fabriano l'abbiamo fatto vedere anche noi in realtà quello che passa sopra via Cesare Battisti che poi va al mare i problemi non ce ne sono non ce ne sono è già stato verificato c'era verifica che sono state fatte in coincidenza con dei lavori fatti in superficie come abbiamo già fatto in altri cavalcavia della città si vanno a monitorare e si tolgono perché in alcuni casi non ci sono stati problemi strutturali perché quello è l'importante ma dei problemi di alcuni calcinacci e sono stati tutti ripuliti allora il monastero delle Benedettine quello che sta per Monte Giove è un po' è stato dimenticato una volta c'era c'era la mostra dell'antiquariato ora no le Benedettine è quello al centro dietro la memoteca forse si riferisce a questa ah si infatti il monastero delle Benedettine è un'altra cosa siamo a Monte Giove tra l'altro non si riferisco al cortile la parte esatto quindi sì quello in pieno centro il problema è avendo il signore gerato in molte città e questa è una bella realtà è un peccato non valorizzare quel chiostro che praticamente si trova si trova appunto si presta per molte cose l'espetta ha perfettamente ragione quando si taglia l'erba della Sassonia davanti al ristorante Nadia Baia Metauro altrimenti si rischia che gli si dà fuoco speriamo di no speriamo di no comunque noi segniamo il sindaco segna ci sono gli uffici che stanno ascoltando e poi segnano pulire anche a Centinarola e a Rosciano perché si puliscono le scarpate ma l'erba poi una volta tagliata viene praticamente lasciata lasciata lì in via Boccaccio c'è un'isola ecologica dove erano state promesse telecamere però purtroppo può ancora allora spiego anche su questo telecamere sono state promesse sono state poste ovviamente sono telecamere itineranti non potevamo permetterci di mettere telecamere in tutte le impostazioni in tutte le isole ecologiche abbiamo iniziato in questo momento sono nella zona mare dove ovviamente nel periodo estivo c'è una maggior frequenza una maggior utilizzo devo anche informare che queste telecamere hanno portato anche risultati perché hanno sorpreso comportamenti scorretti sono state sono stati presi dei provvedimenti abbiamo notato dopo la presenza del telecamere che quando l'abbiamo spostato in altre isole ecologiche dei miglioramenti nel loro utilizzo allora c'è Luca al telefono buonasera Luca benvenuto buonasera 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 a voi allora Sindaco già mi ha risposto in parte perché la mia domanda partiva da questo fatto della punta delle isole ecologiche allora dato che ci sono le chiedo invece la segnaletica orizzontale vista che io per lavoro giro spesso la mattina su Fano praticamente è inesistente in alcuni punti a che appunto era l'iniziativa di fare questa nuova segnaletica perché ci sono dei punti pericolosi non si vede strisce pedonali la linea di mezzeria queste cose qua e in più un'altra domanda invece il parcheggio lì alla Corridoni a che punto è grazie mille e buonasera buonasera prego allora sulla segnaletica adesso poi mi ha citato anche alcune vie non le ho sentite poi con la registrazione poi le mie collaboratrici da casa prendono appunti e le segnalerò subito all'ufficio viabilità per quello che riguarda l'ex distributore Agip l'area quella del Corridoni penso si riferisce a quello comunque do anche un'informazione all'area intorno al Corridoni dove lì sarà previsto un miglioramento sia dei posti auto che verranno aumentati e con la previsione di una sistemazione e ridefinizione di una pista ciclabile che attraverserà quell'area per quello che riguarda l'ex agip sono ho incontrato la società legata a Deni che fa le opere di bonifica abbiamo fatto un piano di lavoro i primi interventi dovrebbero partire a giorni anche perché vorremmo farli finire gli interventi anche più rumorosi e più impattanti prima dell'inizio della scuola perché non dimentichiamo a fianco c'è una scuola elementare e poi dipende la durata anche da quello che si trova dalla reale situazione che si trova nel sottosuolo perché la bonifica non è esterna ora la bonifica del sottosuolo dall'esperienza delle bonifiche di aree come questa loro pensano che grosse problematiche non dovrebbero esserci però lo vedremo strada facendo in ogni caso gli interventi più importanti dovrebbero essere terminati entro l'inizio dell'anno scolastico allora sentiamo adesso invece Sauro che cosa ha da chiedere al sindaco buonasera buonasera noi ci conosciamo signor sindaco si ricorda l'Avis si ecco mi ascolta si 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 la sente si la sentiamo via Gorizia ZTL prima di tutto non lo so se ha consultato i residenti perché non è mai stata così lunga praticamente 22 e 6 no? allora praticamente è un casino primo e poi c'è qui da noi qui in via 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 Gorizia c'è il parcheggio c'è un caravan è ammessa si può un caravan che non non fa come farla subito al cimitero però può il caravan in che via è nelle strisce pedonali strisce dell'auto per il parcheggio delle auto non ci può stare più di tottore quindi se mi dice la via via Gorizia via Gorizia via Gorizia va bene grazie abbiamo capito grazie Sauro ci mandiamo una pattuglia domani salve andiamo avanti ne abbiamo tantissime si sul merito allo ZTL noi abbiamo fatto una serie di incontri sia con residenti e operatori ovviamente trovare la sintesi non è sempre facile la soluzione adottata è un punto di equilibrio fra quelle che erano le esigenze dei residenti e quelle degli operatori ok davanti al Barcecchini Ponte Metauro è possibile mettere un vigile perché c'è un sacco di traffico ed è molto pericoloso dice questo nostro telespettatore si lo giriamo al comandante nella sua organizzazione comandante beh adesso c'è il facente funzioni perché il comandante quando arriverà il nuovo comandante beh adesso funziona così adesso noi faremo un bando di mobilità quindi dirigenti di ruolo che prestano servizio in altri enti possono far domanda per venire nel nostro comune e noi tra questi faremo una selezione se non dovesse esserci alcuna domanda parte il concorso pubblico ok allora sentiamo che cosa invece qual è la domanda che vuol rivolgerle sindaco l'esponente di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli sentiamolo in questa clip caro sindaco noi ci conosciamo da molto ti stimo come persona però non posso condividere la tua posizione sulla sanità quindi ti chiedo visto il fallimento della tua posizione sull'ospedale Santa Croce di Fano visto che l'ospedale di Santa Croce è in continuo smantellamento hai deciso finalmente di difendere l'ospedale di Fano aderendo al patto di piagge oppure vuoi rimanere isolato nella tua politica che finora non ha portato nulla all'ospedale fanese che poi punto di riferimento era punto di riferimento sanitario per un'area vasta che arrivava fino all'entroterra della nostra provincia prego sì adesso questo è pura polemica politica non mi sorprende più ci si avvicina alla scadenza più salgono i toni scadenza quale? elettorale? elettorale perché fra due anni si va a rinnovo già stiamo alla campagna elettorale chi è all'opposizione scalda i muscoli e gioca anche in modo strumentale le proprie posizioni mi piace ricordare un aspetto si fa riferimento sempre al patto di piagge bene intanto all'interno del patto di piagge io registro posizioni non sempre all'unisono diverse tra loro e mi piace ricordare anche che in determinati momenti quando il sindaco di Fano teneva delle posizioni ferme alla conferenza di area vasta il comitato di piagge guarda caso non ha mai partecipato ad una votazione per difendere quelle posizioni una su tutte quando si doveva votare contro una scelta che andava a penalizzare Chiaruccia perché al di là delle chiacchiere poi si vedono anche i suoi comportamenti e poi vogliamo dirla fino in fondo la dica fino in fondo allora chi parla è espressione di una coalizione politica che fino a qualche anno fa amministrava questa città che aveva fatto una scelta non le dimentichiamo centrodestra la scelta era 2012 e oggi non è cambiata è rimasta sempre quella delibera con una modifica che ha spostato di due chilometri l'ubicazione del nuovo ospedale quella scelta condivisa vedeva la realizzazione di un nuovo ospedale con la chiusura del Santa Croce e del San Salvatore perché sarebbero stati alienati quei beni per pagare le spese del nuovo ospedale questa è realtà sono dati ufficiali 2012 Fosso Signore la novità adesso perché sembra che sto sindaco abbia la risposta chiudo il Santa Croce faccia questo faccia quell'altro in realtà le cose certe decisioni sono state assunte e non sono cambiate è cambiata una cosa nel marzo 2017 la regione che ha la competenza esclusiva non lo dimentichiamo sulla sanità modifica quella delibera di giunta trasferendo da Fosso Signore a Muraglia io dico che quelli sono due siti sbagliati entrambi glielo ho sempre detto e la differenza non è stratosferica allora uno poi quando fa il sindaco e non fa opposizione deve guardare anche a portare a casa i migliori risultati al di là delle posizioni e delle ideologie che ci possono essere perché un sindaco poi non si può permettere di fare le battaglie con i mulini a venti perderle tutte e poi dire alla gente ma io ho fatto il coraggioso vi ho difeso Cazziatti e Mazzati come si dice allora Cornuti e Mazzati esatto allora la mia posizione è stata quella di una situazione reale di una contrapposizione forte perché non si può negare che il sindaco di Fano abbia tenuto una posizione netta tant'è che si erano inclinati anche i rapporti con altre rappresentanze una su tutte con il sindaco di Pesoli c'è stato un momento anche di forte tensione sul tema della sanità oggi qual è la situazione? Io ho portato un ordine del giorno in consiglio comunale dove ho detto prendendo atto delle scelte che sono state fatte dove c'è stata anche delle posizioni dell'area vasta perché noi ci arriviamo intorno non è un comune che decide ci sono 50 comuni dove ognuno magari per vantarsi per prendere 10 voti in più tiene delle posizioni non in una strategia condivisa ma più in una strategia individuale perché dobbiamo dire cose fino in fondo per quel che sono allora con questo ordine del giorno e con i rapporti anche con le tensioni con i confronti gli incontri stiamo arrivando ad una soluzione che vede il mantenimento del Santa Croce e anche del San Salvatore ma del Santa Croce come presidio ospedaliero con un pronto soccorso codice rosso significa che alle spalle oggi non c'è con alle spalle servizi come chirurgia d'emergenza H24 medicina d'emergenza H24 tutta una serie di servizi scusate rispetto a prima le cose sono migliorate poi siamo ancora in fase di discussione perché io voglio che queste cose poi vengano messe per iscritto e l'altro elemento ma penso ci sia una clip non voglio anticiparla quella che fa riferimento alla sanità convenzionata quella della clinica privata la famosa clinica privata di cui parleremo tra poco con Marta Ungeri evito di fare ok allora intanto se abbiamo la pubblicità me lo fate sapere che ecco ok allora andiamo avanti con le altre sulla sanità dobbiamo fare un programma a parte perché chiaramente quello che vogliono sapere i nostri telespettatori soprattutto quelli di Fano è se il Santa Croce chiude chiuderà se rimarrà come rimarrà ecco voglio un altro elemento però va detto per onestà però in 20 secondi sì in 20 secondi ho questa definizione che l'ospedale sta chiudendo in realtà c'è stato un processo di integrazione fra i servizi dei due ospedali e quando io mi sono insediato c'era una criticità che l'integrazione si era fatta solo verso una direzione quella di Pesaro in un anno e mezzo questa tendenza si è invertita tutta una serie di reparti si sono trasferiti da Pesaro a Fano i posti letto sono uguali forse ce n'è qualcuno in più a Fano ci sono delle specialistiche che stanno crescendo quindi anche su questo rimando al mittente chi pone queste critiche molti hanno criticato adesso lasciamo il tema della sanità per un istante perché poi ci ritorneremo con l'ultima clip che abbiamo annunciato allora molti hanno notato che questi famosi sacchi della spazzatura lasciati in centro in un orario certamente poco consolo perché comunque è un orario serale quindi tanta gente anche turisti ma non solo i turisti che fanno una passeggiata spesso si ritrovano a passeggiare di fianco a tutte queste montagne di rifiuti tutti gli anni è la stessa storia non si riesce a trovare un orario più decente allora penso che l'abbiano già modificato un po' l'orario allora qualcuno dei commerciati che vanno al furbo ma non di molto no quella è una riflessione che si può fare perché poi non è altro che un'organizzazione del servizio se invece di partire da un punto parte da un altro per fare in modo di arrivare in determinati orari è chiaro che nel centro storico non è un bel vedere in determinati orari specialmente quelli del passeggio i sacchi quelli neri dell'immondizia poi io chiedo anche una maggiore attenzione per esempio ci sono degli esercizi alcuni che mettono i secchi proprio sulla passeggiata allora anche su quello se c'è un pizzico di attenzione e si sposta di 20 centimetri ci guadagniamo tutti il problema dei cani il problema dei cani che fanno giustamente i loro bisognini eccetera eccetera il problema più dei cani è dei padroni immagino ecco in centro storico anche davanti ai portori delle abitazioni i negozi insomma è un po' una vergogna allora questo è un problema di maleducazione perché noi possiamo io ho dato anche il mandato al comandante di mandare un vigile in borghese in modo tale che non si riconoscesse però può intervenire una volta due il problema rimane quando non c'è il vigile poi la gente si comporta in modo non educato per cui è un appello che mi sento di fare oltre a quello di cercare di intervenire con misure di repressione con delle ammende che ci sono e sono previste però bisogna fare appello Matteo Ricci è un po' più sceriffo di lei Matteo Ricci a Pesaro è un po' più sceriffo anche sull'accattonaggio ecco su questo però mi dà mi lancia un'asse lei è un po' più tranquillo allora io stima perché poi sta facendo bene il sindaco fa tanti interventi nella città di Pesaro e io ho uno stile poi abbiamo modalità diverse di comunicare però io guardo la sostanza il risultato allora problema dell'accattonaggio dei parcheggiatori abusivi bene qualcuno mi critica e dice perché non hai messo un'ordinanza io la posso mettere anche domani l'ordinanza cosa dice dice che se prendiamo questo gli facciamo un ammende di 5.000 euro sono in alcuni casi clandestini non è un nulla ci prendiamo in giro invece io sto facendo un lavoro serio che guarda la sostanza e vorrei portare un esempio nel 2014 quando sono arrivato siccome mi arriva sempre dalla stessa parte questa polemica secondo me nella città non è che non ci fosse nessun parcheggiatore abusivo ce n'erano parecchi le polemiche erano forti e presenti anche allora bene io in questo periodo ho cercato di fare un lavoro con sensibilità con attenzione anche capillare e se adesso si fa un giro per il centro si fa un giro al parcheggio dello sterio no lì è un discorso a parte se si fa un giro al parcheggio di Viale Ceccarini io noto una notevole differenza poi vi invito perché poi si guarda dopo uno non ci fa caso non c'è il problema non se lo pone più ma non è un caso è perché c'è stato un lavoro con la nostra polizia municipale attento c'è una pattuglia in bicicletta che gira e si presenta e ha fatto capire determinate cose perché poi abbiamo insomma ci avete parlato avete racconto non ci sono parlato ci sono anche in modo determinato perché in alcuni casi gente che viene da altre città ognuno si faccia carico delle sue problematiche qualcuno diceva quelli di Pesaro sono venuti tutti a Fano no poi questo non è vero si scandalizzano si schifiscono tutti degli schermetti dei cani ma nessuno si scandalizza per le cicche di sigarette che durano molto di più anche qua adesso non dobbiamo fare il paragone con altre città però bisogna che ci si riconosca un altro degli interventi che abbiamo fatto proprio il primo anno che siamo arrivati abbiamo installato posaceneri su tutti i cesti del centro storico e del lungomare avete in parte sì e poi dopo anche qui c'è sempre una parte di maleducazione ecco su questo per esempio ci stavo pensando da un po' di tempo magari fare delle campagne anche severe perché quando non c'erano i posaceneri d'altronde non mettevamo nelle condizioni di poterlo fare adesso che ci sono magari invitando a smettere di fumare non solo di metterle sul posaceneri allora sulle fogne invece fogne in via via De Chirico a Torrette di Fano con le prime intense piogge rischiamo di dover abbandonare la nostra abitazione sono almeno 20 anni che i residenti le stanno aspettando si è un problema che conosco complesso perché se è lì da tanto tempo significa c'è una complessità proprio questi giorni ho incontracciato alcuni residenti in centro ci stiamo lavorando però non mi sento di poter dare una cosa di domani invece abbiamo detto nel nostro telegiornale qualche giorno fa che il casello verrà chiuso per 70 ore quindi tre giorni consecutivi casello di Fano un casello importante dell'autostrada per permettere i lavori i lavori inizieranno questi lavori se non sbaglio lunedì però prossimo abbiamo concordato di evitare i giorni di punta per creare i meno disagi possibili però sono interventi importanti che portano beneficio alla città quindi sono ufficiali perché qualcuno pensava lunedì scorso e quindi hanno telefonato eccetera invece sono comunque in programma e sono in programma per lunedì prossimo quindi lunedì prossimo inizieranno i lavori e quindi organizzatevi perché il casello sarà chiuso per tre giorni allora buonasera volevo chiedere al signor Sindaco l'assessore al turismo quando ha intenzione di organizzare un aperitivo e fare un giro turistico a Ponte Sasso così da rendersi conto in quali condizioni siamo anche qui Ponte Sasso insomma sono un po' si sentono un po' abbandonati poi gradirei sapere se la passeggiata dell'Isippo sia pedonale oppure ciclabile vorrei dire che in autunno probabilmente partiranno i lavori del nuovo sottopasso pedonale che darà accesso al mare a Rio Crinaccio anche questo è un lavoro straordinario che facciamo e abbiamo destinato a Ponte Sasso quando sarà completata l'asfaltatura a Rosciano strada di mezzo è impraticabile molti come me passano sulla Flaminia ed è pericolosa quella non è casualmente non asfaltata non è asfaltata perché lì ci sono dei lavori di nuove abitazioni quindi abbiamo lasciato in sospeso perché dovranno fare dei lavori rompendo anche la strada nel momento che saranno finiti questi lavori la ditta asfalterà e ripristinerà l'asfalto e la strada quando sarà terminata invece la pista ciclabile che collega Finile a Fano sul ponte d'attraversamento dell'autostrada da Vengatto è il punto più pericoloso anche questo con piacere posso portare queste novità i lavori che dovevamo fare con la vecchia convenzione sono stati eseguiti tutti mancava un pezzo breve sul ponte 15-20 metri prossima giunta andrà la convenzione l'estensione della convenzione con la provincia per far eseguire quei lavori ho parlato la settimana scorsa con il direttore generale della provincia e con il presidente che mi hanno garantito che hanno individuato la persona che eseguerà la progettazione che per quel tratto è veloce e breve e poi verranno fatte adesso poi c'è agosto da capire con le ferie verranno fatte dei piccoli appalti trattandosi di risorse sotto soglia con procedura accelerata ok siamo quasi in chiusura allora vorrei sapere quando l'ufficio tecnico interverrà per ripristinare i loculi al cimitero di Rosciano siamo molte famiglie in attesa beh penso che l'abbiano già fatto se non sbaglio comunque lo verificherò volevo chiedere al sindaco a che cosa servono le telecamere negli incroci davanti a porta maggiore beh anche su questo vogliamo fare chiarezza qualcuno parla anche sul tema della sicurezza quando mi sono insediato in questa città erano presenti sei telecamere non funzionanti oggi quelle telecamere sono funzionanti e c'è stato un piano che abbiamo fatto non di nostra la prima decisione che ha preso il comune l'abbiamo condiviso e concordato con le forze dell'ordine e con la prefettura perché giusto se facciamo un piano sulla sicurezza lo dobbiamo fare con chi se ne intende fa quel mestiere quindi loro ci hanno dato un'indicazione ma il messaggio l'obiettivo era quello di monitorare tutte le uscite gli accessi e gli incroci strategici della città perché chi viene a delinquere non è un residente viene da fuori quelle sono telecamere importanti perché sono di ultima generazione collegate direttamente con le forze dell'ordine e hanno una funzione ambientale e una particolare sulle caratteristiche dei mezzi e lì viene tutto citato e viene tutto registrato tant'è che sono stati utili per indagini per esempio le telecamere del ponte Metauro hanno consentito di individuare nel giro di poche ore anche un automobilista che aveva investito una donna e non si era fermato perché ha la capacità di monitorare ormai sono telecamere come dicevo di ultima generazione e quello è un incrocio importante e quindi nel piano era previsto anche questa parte come l'ingresso verso Pesor come sul ponte Metauro come nella zona dello Zuccherificio come nella parte più alta del via Roma via Flaminia davanti alla sede dei Vigili del Fuoco anche quella? anche quella l'abbiamo installata noi anche quella si perché ci sono altri accessi ci manca e quello saranno dei prossimi e quello di Sant'Orso perché quello è un accesso importante dove si arriva anche dalla superstrada quindi un'altra di quelle zone sensibili dunque sentiamo Marta Ruggeri e torniamo quindi credo al tema della sanità 5 Stelle vorrei fare una domanda perché abbiamo seguito molto bene la sua campagna elettorale abbiamo sentito le sue parole e ci pare che in questi tre anni di governo sia contravvenuto a quello che aveva promesso di fare quindi gli chiediamo come fa a rapportarsi con i cittadini soprattutto ora che ha accettato che nel nostro territorio venga costruita una clinica privata depotenziando il pubblico cosa che è contraria proprio anche la sua ideologia politica come fa ad accettare che vengano chiusi i servizi sanitari dell'ospedale Santa Croce quando aveva parlato lui stesso di un potenziamento è vero che non si è mai detto mai contrario all'ospedale unico di questo gliene diamo atto ma secondo noi questo è stato il vero problema sì come anticipavo prima intanto in questa fase c'è tra Santa Croce e Santa Vatora c'è un lavoro di integrazione dei servizi e quello si è attuato e da quando sono in carica mi piace perché poi le cose al di là delle chiacchiere che facciamo vengono dimostrate su un foglio bianco segnando i servizi che sono andati via e che sono arrivati e da un anno e mezzo a questa parte c'è stato un potenziamento sotto una serie di servizi tant'è che le polemiche poi voi le riportate sotto quell'aspetto sono diminuite io ho sempre detto che non ero contrario ad una nuova struttura perché penso che se sia una struttura di alto livello con strumentazione adeguata con professionisti poi quando noi stiamo male cerchiamo le strutture adeguate perché poi anche se le abbiamo sotto casa magari facciamo centinaia e centinaia di chilometri per quello che riguarda e non mi ripeto sulle affermazioni che ho già fatto prima rispondendo a Baldelli sanità privata allora anche su questo c'è una scelta che la regione Marche ha fatto di far nascere nella regione Marche nella provincia di Pesaro una clinica convenzionata significa che è una clinica gratuita per e convenzionata tutti i cittadini come avviene oggi a Cotignola allora è una scelta io come sindaco se si va in quella direzione mi candido a ospitare una struttura di quel tipo e penso che i cittadini non mi perdonerebbero mai se al di là di tutte le chiacchiere la vanno a fare in un altro comune magari a pochi chilometri da noi questo significa una struttura al servizio del cittadino significa risorse economiche perché ha un valore economico una presenza di quel tipo significa lavoro e significa anche certi servizi è una scelta che non va in competizione con le strutture pubbliche presenti va solo in competizione con le strutture fuori regione poi io come ed è vero preferisco il pubblico non ho dubbi sulla pubblica istruzione sulla sanità anche per cultura politica preferisco il pubblico ma siccome non è il sindaco di Fano che decide la regione ha fatto questa scelta come anche nelle altre province ci sono strutture presenti tant'è che qualcuno faceva riferimento al patto di Piagge beh il sindaco candidato recentemente nel nuovo comune delle terre roveresche che era l'ex sindaco di Piagge in campagna elettorale andava spiegando che loro avevano un'area che poteva ospitare la nuova clinica convenzionata che significa che è uguale a quella pubblica per il cittadino il servizio è gratuito ma aveva ragione io avrei fatto la stessa cosa per cui da sindaco mi sono mi sto battendo per fare in modo che la struttura venga qua sindaco volevo sapere che cosa ne pensa del circolo tennis il circolo tennis è in stato abbandono è in crisi penso sia anche chiuso in questo momento no è aperto guarda questa mattina sono andato a fare questa corsetta sono andato a vedere effettivamente è una situazione che piange il cuore perché è il circolo il centro tennis più bello della regione perché quello è un bel centro ha parecchi campi una bella struttura non dimentichiamo che è gestito da un'associazione del circolo tennis stella al merito del CONI più di cento anni di storia quindi piange il cuore in una situazione di questo tipo dove tanti soci si sono allontanati ci hanno cercato c'è una situazione difficile la stiamo affrontando la sta affrontando l'assessore allo sport ovviamente quando vi avranno chiesto dei soldi parliamoci chiaramente quindi che cosa potete fare voi darete un contributo per salvare non è che noi possiamo dare contributi perché quando si fanno delle gestioni si assumono anche degli oneri se si prendono vengono allungati i tempi di una gestione perché sono in cambio di alcuni interventi che si fanno allora la questione è anche un po' delicata adesso non è neanche facile parlare però ecco stiamo ragionando anche con l'attuale dirigenza per capire come uscire da questa e come far entrare magari un po' di liquidità o qualcuno che possa intervenire per risollevare le sorti del circolo tennis allora direi che possiamo quasi concludere qua ne ho ancora un po' tante però direi che possiamo fermarci ancora problemi di panchine di aiuole posso dire questo fra le cose annunci che possiamo fare ho notato che le telefonate rispetto ai primi mesi sulle strade sono diminuite in modo considerevole questa è la dimostrazione che abbiamo fatto un intervento importante non ci siamo fermati proseguiamo a breve partiranno una serie di nuovi lavori in diverse zone della città Sant'Orso a Sant'Orso ci saranno interventi importanti perché lo scorso anno è stata completamente esclusa ma ci sono un po' interventi in tutte le zone della città allora prima di chiudere chiedo alla regia di poter rimandare in onda un attimo l'immagine con la quale abbiamo aperto parliamo quindi di cronaca l'immagine del rifugio Corsini siamo sul Monte Nerone che è andato a fuoco dunque Lino Balestre che sta seguendo per noi questa situazione allora ci dice che intanto la situazione è sotto controllo che non c'è la vegetazione coinvolta vedete però è andato completamente distrutto il rifugio quindi a questo punto potremmo azzardare anche se poi non abbiamo informazioni in merito dettagliate perché ancora sono sul posto ormai è calata la sera insomma tutto diventa un po' più difficile siamo a 1200 metri d'altitudine insomma non è proprio una passeggiata anche per i soccorritori comunque tutto sotto controllo e pare di poter dire dovremmo potremmo azzardare insomma che se tutto è nato da lì che a questo punto che ci sia che sia proprio si sia si è venuto fuori proprio in qualche modo poi non sappiamo se è accidentale oppure doloso ma comunque che le fiamme siano partite proprio da lì questo è un altro tema pesante per il nostro paese il problema degli incendi certamente il problema degli incendi ok noi ci fermiamo qua allora grazie per averci seguito grazie per averci seguito io vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa l'informazione con il telegiornale invece alle 20.30 con il primo cittadino di Fano Massimo Seri invece ci ritroveremo più o meno subito dopo le ferie di Ferragosto immagino grazie per averci seguito buonasera a tutti buonasera a tutti grazie per averci seguito